Ennesimo straordinario successo dell'Ecomaratona dell'Acquedotto Carolino, organizzato dall'Associazione Nazionale Finanziera d'Italia, Suessola Runners, New Power Casa Giove, con il patrocinio WISP e con la collaborazione della Regia di Caserte e dell'ASPAL, la 45 km podistica ha attraversato un bellissimo territorio tra il Sannio e l'area casertana. Intensa partecipazione degli atleti che sono partiti dalla sorgente Fizzo, l'Ecomaratona ha attraversato diversi territori, Airola, Bucciano, Moiano, Sant'Agata dei Goti, Durazzano, Valle di Maddaloni e Caserta. In realtà la partenza è stata scelta come storia di questa sorgente, la cui acqua arriva fino alla Regia di Caserta, una sorgente importante perché storica e proprio qui gli organizzatori hanno voluto che fosse stabilita la partenza. L'affascinante passaggio al ponte Carlo III ha fatti medesimali podisti nella storia dei secoli del passato, il primo ad attraversare il ponte Federico Carmina, atletica Isauro a Valle dell'Irno. Dietro di lui con un ritmo incalzante e costante, senza sosta, Petrillo di Alvignano Running, Tartaglione di Atletica Marcianise, Morelli di Tifata Runners, Sabatino podistica Valle Caudina, Petrillo, Trop Trails, Supa, Runcard, Galetta, Runcard, Maiocca, Rod Runners, Maddaloni, Bucciero, Rod Runners, Maddaloni, Viscusi, Fiamma Argento, Meccariello, Fiamma Argento. È stato davvero affascinante ed emozionante per i podisti di tutte le società sportive attraversare Ponte Carlo III. Un momento storico per il podismo italiano percorrere un tratto della memoria storica, calandosi nel passato e interpretando il ruolo storico moderno. Un altro passaggio importante è al Torrino XVI dell'Acquedotto in località Sant'Anna dei Goti, un tracciato spettacolare dove il verde ha dominato il paesaggio circondato da località molto interessanti. Un paesaggio ricco di verdi e fiumi tra cui Sclero e Martorano. Un luogo incontaminato, cui il percorso ha previsto il passaggio su un altro punto nel verde. Vegetazione fitta, alberi altissimi da veri podisti hanno impiegato il massimo impegno per percorrere i 45 km e affrontare pendenze e discese, considerando anche il tempo inclemente e la peoggia che si è abbattuta nei giorni precedenti. Sul ponte di Durazzano è giunto il gruppo di testa, costituito da Federico Carmine, atletico Isauro a Valle dell'Irno, che è rimasto sempre primo sin dall'inizio della gara, seconda posizione Tartaglione, atletico Marcianise, terza posizione per Pedrillo di Alvignano Running, che si è distinto nel percorso grazie alla sua resistenza podistica. Dietro di lui Morelli, di Tifata Runners, Caserta, sempre attenta alle dinamiche delle prime posizioni. Dietro di lui Sabatino, podistica a Valle Cautina, con un tempo costante e ritmo costante. Sull'acquedotto Carolino di Valle di Maddaloni, Sabatino si è reso determinante, ma alla fine ha tagliato il traguardo alla reggia di Caserta della 45 km della Eco Maratona 2023 Pedrillo di Alvignano Running. Alvignano Running, Pedrillo, vincitore di questa gara della 45 km, com'è stato percorrere il territorio? Bella, la gara veramente bella, organizzata bene, percorso, peccato per l'acqua, è spettacolare, veramente bella. Ecco, è stato difficile per quanto riguarda le pendenze? No, 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 non è eccessivo, tranquilla, si può fare, è bello. Ecco, comunque, diciamo, quale emozione hai provato? Ecco, a me è la prima volta a questa distanza e questo tipo di gara, questa è la prima... Complimenti, che complimenti, bravo, bravo! Grande emozione, provi, giusto? Sì, sì. Ecco, in effetti, non ti attendevi questo risultato, dall'inizio che siamo partiti dalla sorgente del Fizzo, davvero hai potuto ammirare un paesaggio splendido. Sì, veramente bello, passaggio sull'acquedotto bello, tutti i passaggi interni tra le montagne e il bosco, poi loro, l'organizzazione, cioè i passaggi dove potevi bere, gengillissimi, i due ragazzi con la bicicletta strepitosi, per fortuna c'erano loro. Quindi c'è molto da raccontare, per la dire, in questa esperienza sportiva? Sì, veramente non me l'aspettavo. Qual è però il punto più interessante? Il ponte di Durazzano, il ponte di Carlo III, qual è? No, tutti i passaggi sono stati, tutti significativi, tutti belli. Il passaggio sul ponte, sul ponte della valle, quello forse è il più bello per me che ho attraversato. Il ponte della valle di Mandaloni, benissimo, ecco qui. E inoltre, voglio dire, davvero, tu temevi qualche atleta in particolare? Ma io non li conoscevo perché visto che era la prima volta. Ecco, siamo con il Presidente, grande soddisfazione per questa kermesse sportiva, giusto? Sì, grande soddisfazione, sono contento che gli atleti trovano piacevole, divertente ed emozionante questo percorso. Questa fossa va bene così. Ci dispiace per l'acqua, ma anche quello fa parte del progetto. Davvero una manifestazione molto importante. Stupenda, bellissima, la terza edizione, l'ingasso è stato devoluto alle ragazze della Forza del Silenzio, ragazzi autistici che grazie a loro hanno potuto volare con la Fly Therapy. Oggi siamo stati sotto la pioggia, ma le condizioni avverse atmosfere che non hanno fermato nessuno. Veramente una bella esperienza. Per l'ecomaratuna dell'acquedotto Carolino è stato premiato Raffaele Petrillo. Prima posizione per lui.